Leonardo Monteiro, questa è la fase finale dopo un lungo percorso di Aria Sanremo. Stasera il verdetto. Parliamo del tuo percorso. 2.800, eravamo davvero tantissimi, quasi 3.000. È stata una grandissima esperienza, un'esperienza di crescita, un'unione musicale con tanti talenti che avevano qualcosa da dire attraverso le loro musiche, i loro testi, i loro temi. Un percorso lungo che va a mettere anche in gioco alcuni aspetti del tuo carattere, per cui bisogna essere molto forti. Un percorso formativo perché insomma tante persone che sono all'interno di questo ambiente ci hanno dato delle informazioni importantissime per chi comincia un percorso come quello del modo dello spettacolo. Devo dire che è stato un percorso davvero importante per me di crescita. Lo consiglieresti? Assolutamente sì, è un percorso lungo ma che ti fortifica. Quali sono i tuoi progetti dopo questo festival? Beh, proseguire con questa scia meravigliosa musicale che si è creata, questa atmosfera nella mia vita. Uscirà un album che non vedo l'ora che esca, insomma, è pieno di mille sfaccettature di me e del mio mondo musicale tra il soul, il gospel, l'R&B e anche il funky, per cui ci sarà da ballare. Grande presenza scenica è una canzone molto importante la tua? Sì, diciamo che è una canzone con un tema davvero molto importante anche dal punto di vista musicale volevo mettere quello che è il mio mondo e una storia che alcune persone probabilmente hanno vissuto chi in vari modi, insomma, parla di un tradimento ma anche di speranza, per cui un messaggio d'amore. Grazie a tutti.